Olè ed eccoci di nuovo qui su Hearthstone Dopo un bel po' di, diciamo, di pausa Non ho più giocato per un po' Cioè, in realtà ho giocato, però ho provato a registrare ma non andavano bene le registrazioni I video venivano interrotti, insomma, ho avuto un po' di problemi Oggi ricomincio, sperando che questa volta vada bene E... bah, cominciamo subito aprendo delle buste Delle una busta, perché nei vari tentativi sono riuscito soltanto a racimolare questi miseri 130 130 monete d'oro Andiamo a vedere cosa c'è di bello in questo mazzetto Ehm, cominciamo da... questa Bah, ne ho già una, ma... bah Non è male Rara, vediamo Beh Beh Non è brutta Costa pochino Allora, distrugge un servizio nemico casuale Oh, chi è questa? Grido di battaglia L'incursore dei vele rosse ottiene un incremento dell'attacco pari all'attacco della tua arma Mmm, ok Rabbia interiore Infligge un danno a un servitore, ma gli fornisce un più due di attacco Bah! Sì, potrebbe essere utile Ehm, fine Allora, anticipo una cosa principalmente, cioè io su sto gioco non mi... cioè non ho vellità di giocare da pro player o... gioco un po' in maniera molto easy per come viene, quindi non sto a prepararmi chissà quale strategia tattica o... o situazione particolare Vabbè, detto questo proviamo a vedere un po' con quale missione possiamo andare avanti Allora, druido cacciatore, druido ladro, paradino guerriero Ma se giochiamo col druido riusciamo ad andare avanti su due quest, quindi... why not? Ehm, devo farmi un mazzo druido, credo di non averlo mai fatto ancora Druido... no, non ce l'ho Ho messo il druido Mi farò assist... eh? Aspetta Che è sta roba? No, aspetta, ho sbagliato, ho fatto creazione Carte, no, nuovo mazzo Andiamo su... do il diavolo e... druido, eccolo qua Ho 12 carte, scegli Come vi dicevo, non ho idea di come assemblare un mazzo mi faccia aiutare dal gioco Allora, inizio a generare... ok, fuoco stellare infligge 5 danni pesca... ah, il moonfire Moon... no, lo starfire Marchio selvaggio... oh, questo non mi dispiace Due cristalli... ah, sono carte belle Infligge 5 danni... andiamo su... su questa 8, saluta, mi piace, scusa, non ho letto le altre, va bene Questa è quella di prima, ottiene due cristalli in mano solo per questo turno L'avevo già presa Come si chiama? Innervazione... no Lo prendiamo... ah, cazzo, non ho letto l'altra Ehm... oh, sempre questa Tocco curativo, rigenera Prendiamola Ira silvana Infligge 3 danni a un servitore O infligge un danno e pesca una carta Fornisce due attacco al tuo eroe per questo turno e due armatura Mi piace, lo sfregia Innervazione, ne ho già... una, sì Provocazione, marchio selvaggio, ne ho una Ira silvana Ah, mi piace questo Ah, questo me lo dà... mi dà un mana fisso in più Ma, non è brutta Innervazione... ma io ne manco l'ho letta Sfregio Ah, cominciamo con le carte un po' più pesanti Ok, carte da due mana Allora, a me piacciono quelle... o Provocazione Oppure quelle che mi danno più di un... di una pedina per volta In questo caso scelgo Provocazione Qua, la pedina in più Ah, questa non è male Grido battaglia pesca una carta Andiamo su Provocazione Provocazione Questa mi piace Questo è figo solo quando ce l'hanno gli altri Perché a me lo uccidono sempre Non riesco a usarlo in maniera corretta, probabilmente Signora dei lupi bianchi ottiene più uno più uno Per ogni altra questa match Oddio, queste due sono bellissime Questa Altri servitori Oh, quante carte abbiamo Ok, poi Allora, ce ne mancano un po' di quelle grosse Suggerisce una carta Questa 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 se capita al momento giusto Non è male Ah, facciamo questa Dai Questa mi piace Siamo a 21 su 30 Golem Guerra Ah, questa è bellissima Ah, questa è appena sbustata La prendiamo Oh, che bella Questa 26 su 30 Ne mancano 4 Ma sì Prendiamo una di queste Ah, prendiamola Una carta specifica Questa così ne abbiamo due Ah, questa qua è... Mi piace, mi piace Fine Ok Allora, proviamo un gioco Una partita, come? Vediamo Facciamo classificata Allora, di solito quando gioco Non so perché, ma comincio ad abbassare la voce A mugnare, a parlottare molto, molto piano Se dovesse succedere di nuovo Mi sa che toglierò l'audio E aggiungerò un po' di musica e basta Però vediamo Di non farlo succedere E gira, che gira E gira, che gira Voilà Vediamo chi ci capita di bello Uno sciamano Eh sì La natura prima di tutto Ma io confermerei Confermiamo, dai Badabush Buonasera, signor Badabush Dov'è? Salve Oh, questi due In coppia I gemellini Grazie Per questo turno Ma sì Cominciamo a schiaffeggiarlo Stong Stong Finish L'armatura mi rimane fissa Mi pare Sì Questa non c'è carte Uh, aspetta Qui altri due Arrivo a quattro No, è un spreco Facciamo così Per la natura Toh Oh dai Sbrigati Oh, questa la gioco subito Questa mi piace Un cifro Due danni Cade a fagiolo Tra l'altro Hop Ah, non subito Non subito Va bene Allora Vediamo Sbottoniamo l'occhio A questo No Già subito Che palle Che potiamo fare? Va bene È sprecata Farò giocare a questa E non posso fare nient'altro Dai, picchiami Mi ti infastidisco Che cazzo Non l'ho visto Servito di scendia No Sti cazzi Sìììììì Allora Qui urge Un cazzo Turno qua Questo Finito No, devo scassare Gli stati totem Sono un Babbo di minchia questa è una venti quattro mettiti questa mela in testa eh si in testa proprio madonna mia madonna mia che male infligge cinque danni pesca una card la mannaggia allora aspetta questo mi sta uccidendo tutto quello che ho allora devo scassare sto totem qua però così non ce la faccio madonna devo per forza scassare questo che fa ah eh grazie facciamo così mortacci tua poi col cinque no ma sono un rincoglionito ma perché l'ho fatto adesso ho già attaccato mortacci miei stupido babbeo che non sono altro e che faccio mi curo eh si va cura me dai eh scusami mi è messa erba da bush ma sono stato coinvolto nel fare più errori possibili che cazzo sto dicendo sì vai cosa cazzo è aia aia un totem che mi sta schiaffeggiando per tre punti no vabbè c'è questa è è da suicidio sta partita venite ira silvana infligge tre danni a un servitore pesca una carta eeeh si sono morto è stata velocissima sta partita bella giocata eh si grazie bella giocata bella giocata bellocemente madonna mia si vabbè puoi? mi fai one shotare da quello va bene no questa è stata troppo scandalosa sta partita eh non male va bene dai ci riproviamo e facciamo un'altra dai sperando sia altrettanto veloce al contrario qua madonna che fail non so se voglio farla questa ah eh si anch'io eh non funziona questo discorso no questa la sostituiamo ma sta roba all'inizio non mi serve ma dai eeeh si si eeeh ciao i miei saluti i miei saluti mhm toc toc oh non si apre se che non si apre per la natura farai anche tu orso giro solo che tu troverai il suo scudino oppure butti il mondo monti esatto che bello non ho carte da usare scambiamoci schiaffi inutili allora ahhh questa durerà una vita sta partita io gli do fastidio gli stacco l'aquilone aspetta facciamo minchiate cioè non subito almeno TASDINGO TASDINGO eh ce l'ho anch'io con la carta nooo eeeh si c'è 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 infligge due danni ah posso scegliere però qui spero ah no c'è c'è abbastanza mana questo non si rompe sdong dai è finito ah no cazzo hai 5 mana ancora ah non ha tirato giù niente allora tas dingo tas dingo senti gli diamo anche se ha già provocazione però almeno gli diamo questo 2-2 non posso ancora usarlo vabbè non mi piacciono i fiori non mi piacciono no no cazzo rinascono oh vabbè le porte sono aperte me ne mette subito giù un altro questo non è brutto lo gioco a prescindere dalla strategia poi mettiamo questo questo però mi sa che non lo posso picchiare no niente non posso fare niente picchiami così mi curo almeno una roba da fare ah bravo oddio non ti prendi danni va bene stunk allora ho 9 punti posso sparare questo qui giusto per poi questo non lo posso più giocare questo però questo oppure mi curo questo oppure mi curo questo oppure mi curo cosa fare eh cosa fare questo ah la madonna ah giusto mi pare giusto ah pseco billy saluta il pubblico e se ne va mi sa quello con uno schiaffo solo mi toglie mezza vita allora allora intanto subito me stesso grazie poi infligge tre danni un servitore oh un danno e pesca una carta tre danni a questo toc poi così e toc bella giocata grazie finito grazie troppo fica sta cosa dai messaggini stare curiosi di fare questo ma non voglio risultare antipatico ah magari se faccio fine turno lui può giocare monti eh non mi serve una minchia sta carta questa questa ah no mi serve posso fare così e così ah provo mi manca qualcosa che faccia danno ad area no 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 il fatto che abbia già finito le carte mi sa che vuol dire che il mazzo non è molto bilanciato allora a sto giro gli posso ficcare un po' di schiaffi perché gli tiro subito questo mi dà questo lo tiro subito giù faccio così dai così cura 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 eh lo sapevo 8 punti ferita non c'è oh cazzo si è irritato si è irritato no 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 lascerò stare ma è che ero un piccoglione vai gli atti sti danno può stare anche bene dai una bella carta da 10 danni pure no allora questo però posso uccidere così 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 per la natura è così anche lui ha finito le carte quindi adesso durerà sei ore la partita perché giocheremo una carta per volta non vedevo l'ora non vedevo l'ora quello non c'è voglia di bicchiare che spreco tutto sto mana non sapranno mai cosa stock ai 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 ah ah scopa non sapranno mai cosa eh non so se continuare a picchiare lui non so se paga come strategia perché lui mi picchia e mi fa 10 danni a giro così io gliene faccio 8 boh per la natura finito ok 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 adesso non mi ficca 12 danni no no non mi ha ah giusto non lo poteva sto mazzo non è molto bilanciato toc ma non è anche niente con carica quindi sti turni ce li pupiamo tutti aia bua aia bua aia bua aia bua così vince lui mi sa no ancora basta eh non è molto utile che schifo di carta finito eh mi sa che ho finito è andata vabbè abbiamo perso anche ma che stupido vabbè gli dicevamo ben fatto bella giocata ma se pesca una carta eh non c'è bisogno che ti curi picchiami eh sì vabbè picchiami e basta oh ah ok l'ultimo colpo me lo vuole dare lui che cazzo fai ma perchè ma perchè sta cosa perchè vabbè eh eh oh che devo fare facciamo così stupiamolo non mi ucciderai tu no cazzo ho sbagliato avevo lo scudo ah 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 che minchione che minchione oh hai capito ben fatto vuol dire che mi devi uccidere uccidi me ricoglionito eh va bene dai per oggi è sufficiente ciao alla prossima anzi aspetta prima vediamo se ho fatto il livello no vabbè niente ciao 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 ciao